Però secondo me, e credo di non essere l'unico a pensarla così perché molti a mio parere ora mi daranno ragione, chi è stato dallo psicologo mi darà ragione, secondo me è uno dei limiti di andare da uno psicoterapeuta, qualsiasi, non sapendo ancora neanche che cosa hai, il rischio è quello di dover passare tanto tempo a farti conoscere, a spiegare come stai e a ritrovarti magari dopo 3-4 mesi a dire Sì io vado dallo psicologo ma non mi sta aiutando anzi, oppure mi sembra una perdita di tempo, per quello che costa non ne vale la pena, e però non è neanche colpa del psicoterapeuta, cioè lo psicoterapeuta ha un certo tipo di approccio che è molto utile per certi pazienti ma non va bene per qualsiasi paziente. All'inizio è molto cauto lo psicoterapeuta perché non può fare un approccio proprio di ristrutturazione della persona se non sa ancora la persona effettivamente chi è. Se invece passa prima da uno psichiatra o un psicodiagnosta, cioè qualcuno che si occupa di fare un disegno, uno schema di te, perlomeno per capire le classiche domande che altrimenti lo psicoterapeuta direbbe Sei libero di dire quello che ti senti e quindi ora che capisce tutte quelle informazioni ci vuole tempo, tu vai da qualcuno che si occupa proprio di diagnosi, cioè ti chiede banalmente, cioè non ci fai proprio una relazione empatica per forza, anche se ovviamente è importante, però ti chiede le cose chiave, cioè il tuo trascorso di vita, i tuoi rapporti con i genitori, i tuoi schemi mentali, i tuoi sintomi, le tue esperienze di vita anche traumatiche o non traumatiche. Insomma fa un po' un disegno della tua persona e all'interno di questo disegno capisce se i sintomi hanno un'origine molto profonda, se sono più superficiali, se ci sono altri disturbi sull'orizzonte E da lì capisce se serve magari un approccio integrato, psicoterapeuta, psichiatra o se basta un periodo di supporto con lo stesso psicologo che ti ha sentito all'inizio Vedete com'è molto più difficile da spiegare e purtroppo chi non è nell'ambito, perché io stesso prima di studiare non sapevo tutte queste cose Chi non è nell'ambito dice mi serve uno psicologo, punto, e lì fuori, anche per una questione un po' di difficoltà di organizzazione E anche qua di arretratezza nelle leggi e nell'organizzazione, quindi dobbiamo avere pazienza Secondo me andrebbe poi in futuro in una nazione come l'Italia, perché per esempio in Inghilterra, in Olanda, questa cosa è molto più regolamentata Cioè chi ha un problema spesso si rivolge a delle cliniche o degli ospedali dove già c'è uno psichiatra o uno psicodiagnosta Per cui già viene fatto un intervento magari con dei questionari, dei test e dove solo dopo si reputa che quella persona ha quei disturbi Sta così, ok, allora gli diamo, gli consigliamo di rivolgersi a uno psicoterapeuta specializzato nel trattamento di disturbi di questo tipo Perché oggi che uno sia anorestico, che abbia il disturbo borderline o che abbia un'ansia lieve o che abbia una depressione Tutti vanno potenzialmente dallo stesso psicologo che in realtà è uno psicoterapeuta Non ha senso, secondo me è giusto che una persona vada prima a capire che cos'ha E poi dopo vada a rivolgersi a uno specialista che è bravo proprio in quel tipo di problema E così secondo me si limita una perdita di tempo e di denaro perché sai già più o meno che quella persona è abituata, no? Magari a rivedere certi tratti di disturbi o di personalità in un certo tipo di pazienti E quindi quando ti conosce sa più velocemente dove andare a puntare Qualcuno prima di lui ha già fatto un filtro Comunque da Flames in sostanza la differenza tra psicologo, psichiatra e psicoterapeuta è questa Ragazzi segnatevela perché poi me la chiedete spesso Lo psichiatra è un medico che ha studiato medicina e poi si è specializzato in psichiatria Essendo un medico può somministrare farmaci Quindi spesso una diagnosi fatta da un medico è una diagnosi di tipo sintomatologico Con l'obiettivo di capire se eventualmente aggiungere anche dei farmaci Dipende poi se lo psichiatra ha una formazione più psicologica clinica Quindi sa anche a volte avere un approccio più da psicologo O se ha un'impostazione molto biomedica Quindi se lui ha questi sintomi vuol dire che questo farmaco glieli farà passare Ecco non tutti gli psichiatri sono così Io ho conosciuto degli psichiatri che sono anche abbastanza sensibili Quasi da capire un paziente come uno psicologo Però il rischio se vai da uno psichiatra è che sia una diagnosi molto sintomatologica È come quando vai e ti toccano e ti dicono tossisci e ti dicono hai questo prendi questo farmaco È il rischio che facciano lo stesso con i tuoi disturbi Che poi ci sono varie varie teorie C'è chi è più pro, chi è contro, c'è chi dice vabbè ma solo farmaci Secondo me si perde un grosso, una grossa fetta di indagine E che è il contesto, la famiglia, le relazioni Spesso chi soffre arriva a sentire dei sintomi perché assorbe del malessere Anche da una situazione che sta vivendo, da un'educazione che ha avuto Da dei conflitti che ha subito Quindi vedere solo i sintomi che ha è anche un po' secondo me limitante per la persona in sé Perché uno può avere l'ansia perché domani ha un esame o può avere l'ansia perché ha subito un trauma È come intervieni con lo stesso farmaco? No, allora il farmaco non è per forza una cosa negativa Dopo di quello uno psichiatra formato bene E ce ne sono tanti in realtà, non c'è da aver paura Se uno psichiatra sa, a quel punto dice Ok, io ti do magari questo farmaco qua Ma secondo me ti serve anche un approccio psicoterapeutico Allora, per esempio, noto che tu hai dei tratti che sono magari di tipo borderline È chiaro che magari un colloquio solo non mi basta per ufficializzare che è un disturbo borderline Però potresti rivolgerti a questo team di psicoterapeuti che cura proprio disturbo borderline Vai da loro Poi magari non hai il disturbo borderline Però sicuramente quei tratti loro li conoscono bene E vanno a interagire meglio con te rispetto ad andare da uno psicoterapeuta qualsiasi Che boh Comunque questo è lo psichiatra Lo psicologo è quello che al momento sono io Che si differenzia dallo psicoterapeuta e dallo psicoanalista Per una semplice cosa Che lo psicoterapeuta e lo psicoanalista In realtà lo psicoanalista è un tipo di psicoterapeuta Che però fa l'analisi Quindi freudiana, junghiana, bla 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 Lo psicoterapeuta può essere freudiano, junghiano Ma può essere anche cognitivo comportamentale, sistemico, relazionale Ci sono tanti approcci Però come notate quello che c'è è un approccio teorico Cioè si è iscritto a una scuola Si è specializzato E si è specializzato nell'affrontare i disturbi psichici Secondo una certa chiave di lettura Serve una mappa Serve una bussola perlomeno Se non una mappa serve una bussola Ok? E queste bussole, se ci sono È perché qualcuno le ha scritte prima Attorno a chi le ha scritte Si sono create delle scuole E quindi per avere la possibilità di fare psicoterapia Tu devi essere iscritto a questa scuola Qual è però il limite? Che come vi dicevo anche prima Ognuno troverà i problemi Partendo da quello che vede Questa è una cosa che io mi affascina molto Cioè io ho scoperto che ci sono due psicoterapeuti Che hanno parlato di narcisismo in modo diverso E non capivo perché E poi ho capito Che uno li ha interpretati in uno studio privato E l'altro in un ospedale psichiatrico E lì ho capito Perché se sei in un ospedale psichiatrico E vedi dei soggetti che soffrono di narcisismo Lo vedrai molto più maligno, pericoloso e fuori controllo Di uno che li ha accolti in studio Però è ovvio che quelli sono molto bravi Nell'affrontare il narcisismo Quindi se uno va in una scuola di quel tipo Magari è molto bravo con certi tipi di pazienti E allora siccome è un po' secondo me rischioso Alla cieca rivolgersi a uno psicoterapeuta Senza sapere che scuola ha fatto Se non vuoi rivolgersi a uno psichiatra Perché lo vedi come un approccio troppo medico C'è lo psicologo clinico Che non deve spaventare A volte è più giovane Perché ovviamente chi fa lo psicologo clinico Poi vuole anche diventare psicoterapeuta Perché chiaro Lo psicologo clinico fa un lavoro di conoscenza Di diagnosi della persona Però se il problema è particolarmente grave È obbligato a inviare il paziente a uno psicoterapeuta La prima cosa che fa lo psicologo clinico È quella di sapere utilizzare colloquio clinico e test Per fornire supporto, comprensione e diagnosi Di qualsiasi sofferenza o di disturbo che una persona ha Quindi una persona dice Mi serve parlare con qualcuno Va bene, ti serve parlare con qualcuno Vai da uno psicologo clinico Ok? Che costa anche meno, tra parentesi Ci parli Comunque sa Perché è formato Sa sostenerti Sa ascoltarti Fa un'analisi attenta Di qualche seduta Di come una persona è Di che periodo sta passando Di che relazioni ha Di che famiglia ha Di che traumi ha subito Eccetera, eccetera, eccetera E poi se è per esempio Un'ansia dovuta a un periodo Una depressione dovuta a un lutto Si può fare un supporto Psicologico senza per forza Mandarlo da uno psicoterapeuta È chiaro che se tu noti che ha Una schizofrenia Che sta affiorando Allora schizofrenia lo mandi Dallo psicoterapeuta Che lo aiuta a gestire i sintomi Della schizofrenia Ma da uno psichiatra Che farmacologicamente Riduca quei sintomi Comunque qua